si va giù veramente qua affondi veramente qui qui affondi veramente qui siamo a teola zona teola e lì c'è di vigno speriamo che ci facciano attraversare il ponte sì ma non ce n'è tanta se ne saranno 20 centimetri come il marmo sotto quella fresca questo fresco quello che ha fatto ha fatto domenica vediamoci riusciamo arrivare a quel ponte che veniamo su quel sentiero pedonale no sto commentando se ci affondi chiamo il pronto soccorso chiamo i vigili del fuoco fessa sua ma non ce n'è tanta 20 30 centimetri adesso ne devo arrivare dell'altra parte oggi pomeriggio che ne è previsto un po venderti di sabato mezzo metro non è previsto vedremo ma devo arrivare col punti lì a di venire arrivare col punti lì adesso si va a vedere e Grazie a tutti.